Domenica 16 agosto in Puglia sono stati registrati 1.081 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 15 casi positivi, 8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia e 2 riguardanti residenti fuori regione. Non sono stati registrati i decessi. In provincia di Foggia è stata registrata una nuova positività al Covid-19. Si tratta, spiega il direttore generale della ASL di Foggia, Vito Piazzolla, di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale, attualmente ricoverato presso il policlinico di Foggia in buone condizioni. Prosegue intanto l'attività di sorveglianza attiva, svolta senza sosta.